Buonissima mano anche da 4-5 metri e poi Piluti in questo momento per Aydin sul cambio di piloto Giorgiovic contro Sargia che vi filamenta per un fallo che non arriva e già dall'altra parte Lefe Spilsen e Sargia per Naumovic che gli restituisce la palla, para da 3 Sargia segna con l'aiuto del tabellone, non sappiamo quanto recupera la posizione Aydin contro Giorgiovic l'aiuto di Piluti che perde Sargia, Piluti non deve aiutare in quella situazione Escarriolo Sbaglia, Aydin apre per Peter Naumovic, viaggia Sargia, vinta il tiro da 3, va in penetrazione Grazie dentro di Ufuk, Sargia e Lefe Spilsen controlla l'inerte della gara, prova a spegnere il fuoco In questa serata, si e adesso vediamo come la squadra di Escarriolo gestirà questo momento Spilsen lo scarico per Aydin, tiro concesso con un po' di leggeretto della difesa Per il rimbalto di Sturziane e la bomba di Ufuk Sargia esplode il pubblicato da McRae, Daumovic per Sargia da 3 A bersaglio, Ufuk, Sargia, grande entusiasmo Minuti e mezzo al termine dell'incontro, Daumovic contro Blasi, l'aiuto di Frosini Sargia da 3 con spazio, a bersaglio ancora, mostruosa prova di Ufuk, Sargia Bene, come aveva scelto benissimo, aveva avuto una facilità irrisoria a trovare buoni tiri nel primo tempo Fa fatica invece in attacco, ma anche in difesa, è calata e Sargia continua nel suo Individuale dopo un breve accenno di zona, la difesa della Team System, Gay contro Sturziane, Naumovic contro Blasi Che difende bene, Sargia è perso ancora da Djordjevic Un'altra bomba terrificante Si apre per Gay, è intercettata la palla da Naumovic Viaggia Sargia e poi vuole far schiacciare Forad McRae, grande, grande schiacciata A bloccare Gay, lavora bene contro di lui Poi Sargia apre il fuoco da 3 punti Ed è ancora un canetto, incredibile 9 su 12 da 3 Grazie a tutti